Amici di Artemisium Web TV, questa sera è con noi Carla Costantino, segretario territoriale della CISL di Foggia. Abbiamo parlato di universo donna e appunto diritti, tutela dei diritti, ma qual è la situazione attuale nel nostro paese? Un excursus? Diciamo che la situazione nel nostro paese è già di per sé difficile per la grande platea dei lavoratori, ma soprattutto le donne sono quelle che pagano più il prezzo di una crisi che sta attaragliando le nostre famiglie, la nostra società, il nostro territorio. Noi come organizzazione sindacale abbiamo a cuore questa situazione, questi problemi, partendo da un'attenda valutazione del monitorando il nostro territorio, che oggi paga lo scotto di situazioni che vengono da lontano. Noi dobbiamo rimettere in moto il motore della crescita, dello sviluppo del territorio di Capitanata e dobbiamo sinergicamente, perché il problema dell'occupazione femminile non è una questione di donne, è una questione di produzione di ricchezza e di energia, di vitalità per il nuovo modo di fare economia e sviluppo in Capitanata. Ecco perché noi vogliamo, insieme alle politiche di genere, utilizzando strumenti sindacali, quali possono essere la contrattazione decentrata di secondo livello, l'utilizzo degli enti bilaterali per la formazione, per il reintegro sui posti di lavoro, creare quella condizione ottimale affinché le donne possano espletare la propria attività, conciliando anche con i tempi della famiglia e della cura del proprio tempo. Nello specifico abbiamo parlato per quanto riguarda il lavoro di una difficoltà di accesso proprio al mercato del lavoro, già difficoltà per le nuove generazioni molto forti, in particolare per le donne. Una forbice che è appunto, se parliamo di parametri Lisbona, mentre noi siamo molto lontani, in Italia si parla di 46% come accesso femminile al mercato del lavoro, ancora meno al sud, siamo intorno al 35%. Ma quali sono gli strumenti che una donna ha quando si accorge di essere vittima, tra virgolette, di una discriminazione di questo tipo? Gli strumenti che una donna ha, intanto io dico che dobbiamo creare le condizioni per l'accesso, quindi utilizzare bene gli strumenti anche di aiuto che abbiamo, quali possono essere i finanziamenti, i fondi regionali, ma perché no anche quelli della Comunità Europea, il piano straordinario per il lavoro, con le formule di apprendistato, con le formule di ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto incentivando quello femminile, rappresentano delle incredibili opportunità. Poi la cosa importante, nel momento in cui una donna riesce ad entrare nel mondo del lavoro, quello di richiedere a viva voce gli strumenti necessari, i quali possono essere, dicevo prima, l'utilizzo degli strumenti di ausilio, il nuovo modo di fare welfare, perché oggi la famiglia è penalizzata, perché non riesce ad avere dalle istituzioni il giusto apporto a una politica sociale. Quindi il welfare tradizionale è andato in crisi, si appoggia sulla famiglia, sulla rete anche delle conoscenze, ma questo non può andare lontano, quindi c'è bisogno naturalmente di una riforma del welfare e questo deve essere uno strumento essenziale per permettere alla donna di conciliare questa tipologia di lavoro che è utile a tutti. Quello di stasera è stato un convegno abbastanza inedito per i nostri piccoli centri, per la nostra zona, per appunto i Monti Downi, la zona interna della Capitanata. Una situazione inedita in cui se da una parte affrontiamo i temi appunto pari opportunità, imprenditoria femminile, appunto anche la questione della sanità, dall'altro parte ci ritroviamo ancora con temi tabù come lo stalking e la violenza domestica, ma nei piccoli centri, a prescindere dal fatto che comunque si tratta sempre di una situazione in cui si deve cambiare un po' il substrato culturale, cosa possiamo fare in concreto? Allora il tema della violenza veniva ricordato anche nel convegno, è un tema estremamente importante. Pochi giorni fa, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sui minori, io facevo una precisazione che secondo me è fondamentale. I casi di violenza sono superiori, sono maggiori, nel momento in cui in un tessuto sociale non c'è lavoro, perché la dignità del lavoro e quindi la possibilità di avere una propria indipendenza economica aiuta anche nell'evitare forme di violenza, perché molto spesso, ed è stato ricordato, le prime forme aberranti di violenza si verificano nel tessuto familiare. Questo noi dobbiamo combatterlo, ma dobbiamo tentare in tutti i modi di farlo anche emergere, perché spesso e volentieri, soprattutto in un tessuto culturale di cui lei parlava prima, nei piccoli centri, dove si ha questa quasi vergogna di denunciare episodi di violenza, anche familiari, questa omertà nel far venire fuori le situazioni difficili, noi dobbiamo aiutare le donne in un percorso, ecco, è il ruolo importante anche delle associazioni del terzo settore, ma anche quindi le stesse organizzazioni sindacali, tutti insieme, perché oggi fare rete significa sinergicamente creare quell'humus sociale, ma anche quella possibilità di dare ausilio al mondo femminile. La ringraziamo, dottoressa Costantino, ringraziamo anche l'avvocato Francesca Marrese, il Comitato Mame Sant'Agatesi e aspettiamo appunto, pensiamo appunto, speriamo che questa sia solo il primo di una lunga serie di riflessioni sulle donne, anche nel nostro paese. Avvocato Francesca Marrese, tutela dei diritti delle donne a Sant'Agata di Puglia, come è nata l'idea di portare un tema inedito per il nostro paese, in un centro così piccolo appunto nella zona dei Monti Dauni. Senz'altro un tema molto importante, che comunque non va sottovalutato anche a livello, diciamo, di questi contesti molto piccoli e per questo, visto che faccio parte da poco anche di questa comunità, ho cercato un po' di affrontare la tematica, ma come ha già anticipato il moderatore signor Brescia, senz'altro sarà uno dei tanti conveni che seguiranno, anche per cercare di focalizzare un po' l'attenzione su quello che è l'universo della donna. E quindi abbiamo voluto trattare la tutela dei diritti della donna sotto vari profili. Ovviamente io in qualità di avvocato ho affrontato quella di un argomento centralissimo, quella di la pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi, quindi sociali, economici. Ripeto, ho visto che stasera ha riscosso molto consenso e quindi mi auguro che anche in futuro sarà così. Il nostro impegno, cercheremo di mettercela tutta. Accennava prima una tematica molto importante per quanto riguarda la discriminazione nel campo del lavoro. Ci sono diversi strumenti, a seconda del caso in cui venga effettuata una discriminazione nel campo pubblico o privato. A chi si può rivolgere una donna in questo caso? Io esorto, qualora ci siano simili discriminazioni, comunque rivolgersi ovviamente prima a un legale e poi rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Sono previste delle apposte di strumenti, quindi c'è il giudice del lavoro, qualora stati di rapporti tra privati, oppure se c'è anche la presenza del pubblico, in questo caso bisogna rivolgersi al tribunale amministrativo regionale, competente nel luogo dove si è verificato l'atto discriminatorio. Sono azioni che anche negli ultimi tempi sono visti molto più farevolevolmente, quindi questo significa che c'è più consapevolezza da parte della donna della tutela del proprio diritto. E quindi da parte nostra c'è anche questa politica di spronare ogni forma di eliminazione di queste discriminazioni che in realtà incidono parecchio a livello proprio della nostra società. Vogliamo spiegare, prima ho sentito una figura molto interessante che sono i consiglieri di parità. Chi sono? I consiglieri di parità non sono altro che delle figure che sono state previste espressamente dal legislatore, già prima dell'introduzione del codice per le pari opportunità, quindi già prima del 2000, però nel 2000 si è voluto dare un valore maggiore. Sono delle figure che hanno rilevanza dal punto di vista nazionale, ma non solo, anche dal punto di vista regionale e provinciale. Quindi molto spesso questo discorso della parità che è visto come un miraggio riguarda invece questioni che possono essere affrontate anche nel proprio territorio. Per esempio nella nostra provincia, a Foggia, c'è proprio a livello provinciale la figura del consigliere. Sono esperti nel settore, quindi persone sono molto valide, quindi chiunque potrà rivolgersi anche per segnalare un abuso, qualsiasi forma di discriminazione e ovviamente poi spetterà anche al consigliere valutare l'importanza della denuncia e quindi dare seguito o meno alla domanda fatta dal cittadino. Grazie dottoressa, possiamo annunciare alla nostra comunità appunto che, diciamo così, essendo lei, facendo parte lei ormai della comunità santagatese, in un certo senso adesso si può anche un po' riavvicinare quella distanza tra il gap culturale, diciamo così, tra il parlare di questi temi e il magari avere appunto qualcuno a cui rivolgersi in loco per consulenze di questo genere. Per qualsiasi forma di consulenza, essendo un avvocato, quindi siamo a tutela dei diritti, diciamo non solo delle donne, di tutti. Speriamo di parlare ancora di questi temi a Sant'Agata di Puglia, grazie e alla prossima. Il convegno sulla tutele dei diritti della donna, c'era anche una degustazione di prodotti tipici, locali, a cura di Pottito Gallo, di un'azienda vitivinicola di Ascoli Satriano. Come nasce l'idea di questa appunto di produrre e commercializzare vino? Le produce il Cantaros, quindi un vino che è un alienico, una specialità molto particolare che ha ricevuto anche un marchio. Come nasce questa idea? Beh, l'idea nasce da una passione per il vino di circa 20 anni fa. Poi ho iniziato a piantare piano piano questo vitigno di origine vulcanica, appunto l'Aglianico, e poi l'ho prodotto nella mia azienda da Ascoli Satriano, avendo un marchio Puglia-Aglianico-Egitti, il nome è Cantaros. Di questo Cantaros ne produco 30-40 mila bottiglie per una superficie vitale di circa 5-6 ettari e ho la commercializzazione sia in azienda che in una teca da Ascoli Satriano che ho chiamato il Calice. Nel quest'ultimo anno ho ricevuto un premio in particolare nei grandi vini di Luca Marone del 2011, il miglior vino tra i migliori vini dell'anno 2011. Il vino a taglia bassa, è corposo, molto profumato, di spessore ed è un vino che si accompagna molto sui pasti, su carneggioni, ma di grande gusto su tutto. Ci spiega il fatto che, appunto, anche pur essendo, appunto, avendo i suoi vitigni ad Ascoli Satriano, riesce a produrre Agianico che notoriamente appartiene alla zona del Vulture. Ci spiega questa particolarità. È stata una sfida perché, avendo fatto le analisi al terreno, ho visto che era calcareo e poteva lo stesso produrre un Agianico. Poi era ventilato a 356 metri di altezza e avevo letto un disciplinare che anche in Puglia era possibile produrre l'Aianico avendo queste caratteristiche. Io mi trovo, in effetti, verso Cantela, Melfi. Quindi ho avuto ragione. All'inizio, certo, tanti foggiani ridevano, scrivevano lettere. Insomma, era una cosa così. È stata una sfida. Ma io sono molto determinato come uomo. Infatti, nell'azienda adesso ho inserito mio figlio e mia moglie e alla fine ho vinto perché le caratteristiche sono uguali. Gli zuccheri arrivano a 22-23 gradi, quindi a 22-23 gradi di zuccheri. La gradazione, invece, del vino è intorno ai 13-13 metri. Questa è stata una sfida, però vinta. Vinta perché ha ottenuto anche il marchio IGT. Ci dice agli amici di Artemisum Web dove si trova la sua azienda e dove si possono degustare i suoi prodotti? In quale località? Sì, l'azienda si trova esattamente a Ascoli Sud e l'Enoteca si trova in Ascoli, via Pascoli 5. Facciamo la degustazione dalla mattina alla sera gratis a tutti. Apriamo le bottiglie. Non siamo quelle aziende che offriamo bottiglie. L'importante è il ritorno e siamo anche nel progetto scuola. Il ritorno è che diamo la possibilità alla gente veramente di iniziare a capire un vino moderno, giovane, però di caratteristiche antiche. Svolgete tante iniziative anche nella nostra terra. In bocca al lupo il signor Potito per le sue iniziative. Alla prossima.